Prego Coach, una partita nella quale siete stati sostanzialmente in equilibrio fino alla fine però la stagione ricomincia con una vittoria di Conegliano contro Novara Sì, è così Abbiamo fatto tre set di buon livello ci siamo lasciati un po' sopraffare nel terzo dal finale del secondo dovevamo un po' assaporato la sensazione che potevamo metterci avanti 2-0 sono comunque dinamiche che sono già successe nel recento passato e quindi adesso dobbiamo cominciare dall'inizio perché la stagione è appena iniziata le ragazze sono appena trovate, dobbiamo recuperare tante cose ma anche da un punto di vista mentale in queste situazioni dobbiamo fare comunque uno step in avanti Avete cambiato tanto, sono arrivate Rosamaria e Brar avete persino al posto di Sansona che ha fatto una scelta di vita diversa quanto potete migliorare rispetto alla squadra che abbiamo visto? Sicuramente molto, non abbiamo cambiato così tanto tant'è che dobbiamo essere capaci di tenere salde le cose che avevamo lavorato l'anno scorso inserire bene le giocatrici nuove e utilizzare il potenziale che abbiamo per migliorare ancora e per avvicinarci ancora di più ai nostri avversari che l'anno scorso sono stati i nostri avversari di tante finali ma quest'anno sono sicuro che ci sarà di nuovo una grossa compagnia con altre squadre che saranno competitive come lo saremo noi e quindi dobbiamo lavorare Avete la sensazione di esservi avvicinato? Abbiamo avvicino, lontano, non conta niente, conta chi vince noi abbiamo la sensazione di avere del potenziale per crescere, per migliorare e dobbiamo pensare, dicevo l'anno scorso, lo dico anche quest'anno, non è cambiato noi dobbiamo diventare il Novara più forte possibile poi quello che riusciremo a costruire lo utilizzeremo per cercare di contrastare gli altri avversari Grazie a te